SIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand di MEC3, l'azienda che si occupa di produzione e distribuzione, preparati per gelati e siamo in compagnia di Matteo Sala, il direttore marketing del gruppo Casa Optima. Matteo, benvenuto qui sui miei schermi di Orecanews.it. Grazie mille. Ecco, noi ci troviamo nello specifico, nell'angolo molto affollato, molto frequentato, dobbiamo innanzitutto dirlo, dedicato a Do You Mix. Che cos'è Do You Mix? Do You Mix è la nostra brand dedicata al mondo del beverage, è una neonata, perché è nata direi da un anno oramai ed è stato un 2022 scoppettante e di grande successo. Do You Mix rappresenta la nostra volontà di crescere in maniera aggressiva all'interno del mondo beverage che come gruppo Casa Optima abbiamo identificato come una delle traiettorie di crescita strategica per il gruppo. Quindi l'anno scorso abbiamo deciso di lanciare questa brand Do You Mix, che qui vedete alle mie spalle, che è una brand composta da una serie di piattaforme che sono già molto versatili e coprono tutte le occasioni di consumo che il nostro cliente può desiderare. Adesso le possiamo citare anche una per una, andando un pochino più nel dettaglio. Innanzitutto abbiamo, direi, un portafoglio di 70 referenze che sono divise tra le creme, che sono perfette per la mattina, sono creme che sono eccezionali per ogni tipo di caffetteria creativa. Seguendo e andando avanti nel corso della giornata abbiamo la linea Fruit Elixir, che è una linea ad altissima concentrazione di frutta. Sono delle puree che sono perfette per creare smoothies e frullati. Andando ancora avanti, nel corso della giornata invece incontriamo il mondo della mixology e abbiamo lì le nostre linee che sono il nostro cavallo di battaglia. Abbiamo gli squeeze, che sono dei premix di frutta, perfetti per ogni tipo di cocktail. E infine gli sciroppi, che abbiamo peraltro rilanciato e che presentiamo completamente rinnovati a Sigep, che concludono la nostra offerta. 70 referenze sono davvero tantissime. Non immagino la fatica che avete dovuto fare per andare a inventare e per riempire le varie linee. Però non vi siete stancati. Cioè a soli 11 mesi dall'inaugurazione, dall'esordio sul mercato delle linee avete creato delle nuove referenze. Che cosa presentate qui dunque al Sigep 2023? Certo, assolutamente non ci siamo stancati perché è un piacere lavorare su una brand come i due mix. Quest'anno al Sigep abbiamo novità veramente entusiasmanti. Non soltanto continuiamo ad innovare nelle linee che ho presentato prima e che sono quelle del portafoglio già esistente di Mac 3. Quindi abbiamo nuove varianti per tutto il mondo degli squeeze. In particolar modo voglio citare il lime and mint, che come sapete è perfetto per i mojito, e anche il pompelmo rosa. Lanciamo nuove referenze nel mondo delle purè di frutta e i fruit elixir. In particolar modo il dragon summer, che sicuramente ha un gusto che sarà il trend dell'estate e l'albicocca. Rilanciamo, come ho detto prima, tutta la linea degli sciroppi e aggiungiamo una linea di sciroppi dedicata ai tè. E infine, nel nostro cavallo di battaglia per quest'anno, presentiamo la nuova linea dei Cordial, che è una linea di prodotti assolutamente innovative. Sono tre referenze, di fatto sono un mix di spezie e di frutta e sono dei drink che sono perfetti per ogni tipo di cocktail. Noi lo chiamiamo l'antidoto per cocktail noiosi. E allora, prima di andare ad assaggiare, finalmente, anche una delle vostre primizie, una delle novità che state presentando qui a SIGEP 2023, forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere, per avere maggiori informazioni sui prodotti, entrare in contatto con voi e chissà, iniziare a elaborare una nuova relazione di tipo commerciale, atteso che voi avete una fittissima rete di agenti e concessionari, ma sai, io dico sempre che c'è la maglia che si smaglia, c'è qualcuno che vorrebbe ma non può, non ha potuto finora e questa potrebbe essere la propizia occasione per riuscire a entrare in contatto con voi. Ma piuttosto che la casella di posta elettronica direi di andare sul nostro sito, che è duiumixback3.com, nella sezione contatti, noi saremo felici di accogliere qualsiasi visitatore, avere spunti, clienti interessati all'approfondimento, quindi per favore contattateci, visitate il nostro sito e saremo entusiasti di accogliervi. Bene, nel frattempo ho visto che è arrivato qualcuno alle mie spalle con un vassoio e due bicchieri ripieni, di cosa si tratta? Perché comincio a essere un tantino intimorito. Sono dei cocktail fatti con il Cordial, che citavo prima, e sono dei cocktail fantastici preparati da Marco Dongi. Ciao Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Sì, questi sono i nostri prodotti, Cordial, quindi dei premix che aiutano e facilitano la vita dietro al bar, quindi mixati con parte alcolica e analcolica, si possono ottenere degli ottimi aperitivi. E allora io ti chiedo, purtroppo per te non c'è, mi dispiace moltissimo. Ma lo faccio di mestiere, quindi sono abituato. Benissimo, e allora Matteo, è il momento di bere alla vostra salute con Do You Mix. Grazie a tutti.